Un altro successo per la Kermessa Estiva Avelino Summerfest. Nella serata di ieri il comico di Made in Sud, Mariano Bruno, nella cornice di Contrada Bagnoli, attraverso la sua simpatia e il suo grande talento, ha regalato tanti sorrisi alla gremita piazza. Interpretando vari personaggi, come Carletto il Galletto e Salvatore Umile, Bruno ha regalato uno show molto coinvolgente e dinamico, partecipando anche con il pubblico, il quale ha apprezzato tantissimo le doti di uno dei volti più noti di Made in Sud. Il comico, entusiasta dell'accoglienza ricevuta, ha esaltato la Kermessa Estiva, augurandosi che tali eventi si possano organizzare più spesso, ma non solo ad Avelino, bensì in tutta la regione. Un'iniziativa presa dal comune per portare spettacoli in varie piazze del comune stesso e stasera siamo qui in questa bellissima Contrada, con un ottimo assaggio di porchetta doc, il che non guasta mai, e soprattutto una risposta da parte del pubblico e delle persone che vivono in questa Contrada. Un'ottima accoglienza da parte dell'amica mia che sta di fronte a palco, che ci ha accolto con grande simpatia, e sono contento di stare qui. Grazie Avelino e speriamo di farne tante altre. Ce ne fossero di città che opererebbero in tutte le periferie, spesso la periferia viene bisfattata, viene isolata, quindi in questo caso non è così e che ben venga. Un saluto a Telenostra, a Sassin, fate bravi e seguite sempre Telenostra. Ciao!